Procuratore, è esagerato dire che c'è un'emergenza per l'economia toscana di inquinamento mafioso? Guardi, io credo che nulla sia esagerato. La presenza del procuratore nazionale antimafia alla conferenza stampa dell'operazione che ha svelato un giro di riciclaggio in Toscana legato alla cosca a Tagliavia non è casuale. Poco tempo fa fu presente per un'analoga operazione riguardante l'Andrangheta. La Toscana, ha detto Derao, è terra di elezione per le mafie come punto di riciclaggio del denaro. Dimostrano, e quest'ultima operazione ne è un esempio, di essere molto efficienti nel penetrare l'economia legale inquinandola. Pensate cosa nostra è Andrangheta che operano su questi territori. Evidente che investono. Questo evidenzia come il circuito mafioso abbia individuato queste terre come terre nelle quali può operare e in cui l'economia è capace comunque di mascherarne l'operatività. Cartiere che ancora una volta entrano nel circuito dell'economia legale e agevolano società apparentemente sane, che però si avvalgono dei servizi illegali delle società mafiose per coprire una parte dei loro introiti e quindi ridurre il debito fiscale. Una volta entrate nel circuito criminale, ricordano i procuratori, le imprese sono poi ricattabili e difficilmente riescono ad uscirne. Oramai le mafie si sono riversate sull'economia, sull'economia legale, e si nascondono attraverso soggetti economici a volte tradizionalmente operanti nel territorio, destando evidentemente minori sospetti. Quello che è importante sottolineare è che l'imprenditoria sana, che è la stragrande maggioranza dell'imprenditoria toscana, deve creare al proprio interno gli anticorpi per evitare di cadere sempre con margini maggiori nel vortice e nel gorgo dell'impresa mafiosa, perché è un abbraccio mortale. I margini ci sono, ma bisogna stare molto attenti.